Max, mi hai fatto una bella domanda, ultimamente hanno migliorato un sacco le scarpe sulla parte dell'intersuola, mi sto rendendo conto però adesso che farei fatica a trovare una scarpa per il periodo invernale. Non tutti sanno che, ma voi probabilmente sì, che il primo caso di ipotermia sia stato riportato nel 1982 alla Maratona di Glasgow. A quella gara, nonostante una temperatura di 12 gradi, c'era comunque un'immidità del 75% e, udite udite, raffiche di vento tra i 16 e i 40 km all'ora. Capite bene che in quelle condizioni estreme il corpo umano è sollecitato fino all'estremo appunto e, in effetti, le condizioni di temperatura rettale del podista raggiunsero i 34,3 gradi. E come sicuramente sapete, la temperatura per sopravvivere dell'essere umano deve essere compresa tra i 35 e i 42 gradi, nonostante l'escursione termica sia significativamente superiore. Se vogliamo desumere delle conclusioni da questa storia, sappiate che l'autore dell'articolo che ha raccontato per la prima volta della Maratona di Glasgow, ha sottolineato che ci sono comunque quattro fattori che influenzano l'ipotermia, sono legati ovviamente alle condizioni climatiche, ma anche al peso del podista, agli abiti che indossa e, sorprendentemente, forse non l'avremmo detto, alla velocità al cui il podista sta correndo. Il consiglio che quindi vi posso dare, bella scoperta, è quello ovviamente di coprirvi oppure di correre velocemente. A 3,45 km potreste coprirvi la metà o, forse meglio, se camminate dovreste coprirvi il doppio rispetto a quello che potreste fare se invece andaste a 16 km all'ora. Dicevo comunque che dovreste utilizzare degli abiti che vi consentono di isolarvi dal freddo, dall'umidità e soprattutto dal vento. Nox nel suo libro sottolinea che la temperatura gioca davvero un ruolo fondamentale, sappiate comunque che a 50 gradi sotto zero dovreste vestirvi 12 volte di più rispetto ad una temperatura normale, se camminate rispetto a soltanto 1,25 volte se correte a 3,45 km. Vi sfido però a correre a 3,45 km a meno 50 gradi. Anche perché la temperatura in Siberia ha raggiunto addirittura i 38 gradi quest'estate, vi allego un bellissimo grafico del Financial Times, è davvero sorprendente e il mondo in effetti sta davvero cambiando. Dicevo che se correte a 3,45 km al chilometro state comunque attenti a non fermarvi perché in questo caso la situazione cambierebbe rapidamente e ovviamente il consiglio sarebbe quello di vestirvi adeguatamente una volta completato l'allenamento. La ragione teorica è che comunque il metabolismo aumenta correndo più velocemente perché aumenta la produzione di calore. Sappiate comunque che l'organismo tende a aumentare il suo metabolismo del 13% per aumentare solamente di un grado. In generale le parti da coprire sarebbero quelle periferiche anche perché sono le prime a raffreddarsi, il corpo stesso tende in effetti a portare il calore agli organi vitali, quelli che il meccanismo della termoregolazione protegge al meglio. Se posso dire la mia vi consiglio comunque di correre con un cappellino, sappiate però che se volete avere altri mille consigli vi suggerisco di leggere il famoso libro di Tim Knox all'interno del quale sono spiegati davvero milioni di suggerimenti su come comportarsi, addirittura è dedicato un capitolo, quando la temperatura non è assolutamente normale. Sappiate però che il vostro DNA ha una grande influenza sul vostro modo di comportarvi, per esempio quello che faccio io non lo fa assolutamente Andrea, tra l'altro se potete iscrivetevi al canale e attivate le notifiche perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni di scarpe, tecnologie ed allenamenti e vi consiglio sicuramente di non perderle. E ora sentiamo il pro depodista che mi ha lasciato un vocale e poi l'ho intervisto qui dal mio giardino. Ciao Max, ciao a tutti, sono Giulio nel mio box, pronto per allenarmi, a fare un po' di pesi, speriamo in Reggio Emilia almeno per gli Elite, fate il tifo per me e grazie mille per i caffè che ci state mandando e offrendo in questo periodo, continuate così, ciao ciao! Ciao Max, ormai arriva il freddo. Il coniglio ti sta guardando e sta prendendo anche appunti. Non è vero, se è girato sei andato, prima era lì che ascoltavo. Le scarpe di color arancione, ne abbiamo parecchie comunque. Oh, le alfa fly mango, esatto. Che poi il mango, il mango praticamente è sempre verde, quel rossiccio lì si vede davvero pochissimo. Vabbè, avrei letto un altro colore invece che mango, però vabbè. Si sta avvicinando l'inverno e quindi ti vedo ben carrozzato con il giubbottino fantastico. Come affronterai questo inverno? Allora, sicuramente non correrò con questo giubbottino. Io odio abbastanza l'inverno, il periodo che preferisco è questo qua e la primavera se non soffrissi di allergie. L'inverno io dico sempre assolutamente i lenti, coprite i muscoli più che potete, delle gambe ovviamente. Per assurdo potreste correre in canotta se non state male, ma i muscoli delle gambe devono essere sempre al caldo. E anche quando fate i lavori, io tipo, vabbè adesso mi dovrò organizzare non avendo più la pista, mi riscaldo in zona casa copertissimo. Quando corro, quindi mi riscaldo pesantissimo, quando corro poi mi metto con i pantaloncini, anzi ce li ho già sotto al dire il vero, pantaloncini che arrivano al ginocchio e i corsari o i ciclisti. E al massimo metto le polpacere. Oppure, se uso gli svolazzini, quello di solito mi capita in pista, metto una crema riscaldante 20 minuti, mezz'ora prima di partire. A livello di riscaldamento, cosa cambia rispetto a una stagione invece più calda? Guarda, il riscaldamento per assurdo è sempre uguale. È che lo farei più corto in estate e un pochino più lungo in inverno, perché comunque il muscolo si deve riscaldare un po' meglio. L'unica accortezza che dico è sentite bene il muscolo, non è che dite faccio 20 minuti di riscaldamento perché Andrea mi ha detto di far 20 minuti e poi parto. A me è capitato certe volte di non riscaldarmi mai, quindi fare 20-25 minuti, oppure di aumentare un attimino, oppure di tenermi addosso alla roba che avevo lunga perché comunque si sente il muscolo freddo un casino, oppure comunque la prima ripetuta ve la tenete un attimino più leggiadra, diciamo, rispetto alle altre, aspettate che il muscolo entri bene in forma, diciamo, che sia bello in temperatura e che quindi potete incominciare a spingere. Forse vi avevo già detto il riscaldamento, non fatelo di fretta, soprattutto in inverno. E invece a livello di protezione di mani e testa? Forse dopo sono curioso di sentire quello che dirai te, io i guanti li metto su ma li tengo praticamente per 1-2 km, poi li devo buttare, infatti quando corro in pista sennò col cavolo che si è per strada li butto, e in testa non tengo assolutamente niente perché ho quel grosso problema di sudare un casino e praticamente diventa fradicio e mi si ghiaccia sulla testa e sulle orecchie, ho provato due o tre volte ma è una roba incredibile, quindi evito, ripeto, uso un attimino i guanti e poi li do via. Mi era capitato tipo a Treviglio, alla mezza maratona, avevo messo mia madre e mio padre al quinto o sesto chilometro che sapevo benissimo che gli avrei dato manicotti e guanti. Tanto alla fine quando corri forte senti solamente la fatica e il freddo te lo dimentichi un pochino. E invece correre quando l'illuminazione non è ancora adeguata, come ti comporti? Allora, lì è un grosso problema, tipo ieri eravamo alle fabbriche, un ragazzo doveva provare il personale sui dieci chilometri, non si accendevano le luci, abbiamo corso il buio, lì è un grosso problema più che altro per dove mettete i piedi, io faccio davvero fatica, rallento un casino perché non so mai dove mettere il piede, il piede è sempre insicuro diciamo e quindi lì è un po' un problema. Utilizzeresti qualche... Allora, ho una luce, non questa qua da... tutti stanno usando questa qua, vedo perché dicono che sia stracomoda, io ho una luce invece frontale ma guarda la verità è che quando corro non me la voglio portare in giro e cerco di correre sempre al massimo in giro per il paese anche se non mi passa più, che ci sono i lampioni che mi illuminano il percorso e diciamo che un po' lo conosco a memoria. Non riesco ad andare a correre tipo sul canale, sulle piste bianche, in zone abbastanza al chiuso, cioè al chiuso scusami, nei boschi diciamo. E invece per quanto riguarda corse più lunghe dove il corpo si adegua abbastanza, cosa dici? No, guarda, a parte che le corse lunghe cerco sempre di tenermele, adesso in questo periodo è il sabato, la domenica mattina e se devo fare corse lunghe è di necessità avertù, quindi dove posso vado a correre, però ti ripeto vado sempre, ho anche lì un giro da 10-11 km che non potrò più fare adesso, ma in generale che è abbastanza illuminato e quindi non mi porto in giro le luci. È cosa buona però averne almeno una, tipo questa qua dietro posteriore che vi faccio vedere, perché poi anche lì la luce serve per farvi vedere dalle macchine se anche riuscite a vedere la strada. E invece a livello di alimentazione cosa cambi durante questo periodo invernale? Vado in letargo, faccio come gli animali, vado in letargo. No, non è vero, questo periodo per me è più o meno uguale al periodo estivo, magari sto più attento a non mangiare ancora più sotto allenamento, perché faccio ancora più fatica a digerire col freddo, quindi davvero mi tengo almeno due ore di stacco dall'allenamento all'ultimo spuntino, perché se no davvero faccio fatica a digerire, però lì va di persona in persona, non posso dare consigli, dovete valutare voi sulla vostra persona. Magari provate prima sui lenti e poi provate sui lavori, perché magari vi bevete un bicchiere di latte, sull'entro non vi dà problemi, sul lavoro potrebbe darvele. Quali scarpe utilizzeresti in questo periodo? Guarda, la scarpa già dall'anno scorso ho una Asics, la Nimbus, la Winterized, sto usando lei che è abbastanza pesante, dovrebbe avere la sua per il periodo invernale, la uso solamente in questo periodo, perché se no davvero in estate mi cuoce il piede. Per il resto utilizzerai delle scarpe abbastanza carrozzate. Max, mi hai fatto una bella domanda, ultimamente hanno migliorato un sacco le scarpe sulla parte dell'intersuola, molto morbida, molto reattiva, mi sto rendendo conto però adesso che farei fatica a trovare una scarpa per il periodo invernale, perché hanno tutte praticamente la suola abbastanza liscia. Sto pensando alla Rincon, è inutilizzabile, sto pensando alla Pegasus, che anche se hai i tacchetti, l'abbiamo provato in estate, non tiene sul bagnato. Quindi andresti solo su Asics e Adidas. Ecco, infatti te lo stavo dicendo, il problema è che lì adesso è ritornare su una scarpa che per me risultano un po' troppo secche. Quindi, boh, vediamo. Anche per fare i lavori sarà un bel terno all'otto. Vediamo e boh. Se avete delle scarpe che avete usato l'altro inverno, tenetevele, perché adesso è davvero difficile trovare una scarpa che tenga bene il grip o sulla neve o su pista bianca bagnata o sul bagnato in generale. Ultima domanda, tapirulansi o no? Per me è sempre no, il tapiro, però anche lì ce l'avete sfruttato, assolutamente. Non usatelo magari per fare i lavori, sfruttatelo magari nelle giornate proprio brutte dove uscire a correre con la pioggia o con la neve per terra, dove è anche pericoloso, scivolare a farsi del male, è una buona soluzione, il tapiro. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. È quasi un paradosso che io concludo la recensione relativa a come correre con il freddo in una giornata di sole così bella, dimenticavo di dirvi che io sono Massi, nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe, tecnologia, di allenamenti o perché no anche di libri, le recensioni sono quasi pronte, vi lascio comunque con un video finale, un piccolo spezzone di una pre-recensione che sarà pubblicata nei prossimi giorni, vediamo come sono riuscito a coinvolgere Bonni, alla fine il mondo è sempre pieno di incentivi. Mi raccomando, se riuscite a correre, continuate a farlo, stay strong e ci vediamo alla prossima.